D'Alfonso continua a mentire nei confronti dei lavoratori Cotir e la nuova accusa mossa dai consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri, nei confronti della giunta regionale e del suo presidente. La nascita del Cruail, consorzio di ricerca unico d'Abruzzo per volontà del neocommissario Micucci, non vedrà alcuna nuova assunzione, anzi, sarà avviata la procedura di licenziamento per il 50% delle maestranze oggi in sua dotazione. Questo tipo di atteggiamento, dicono i forzisti, assesta un durissimo colpo alla ricerca pubblica in agricoltura che in questi anni ha prodotto dei risultati importanti ed eccellenti per il settore primario, struncato definitivamente il futuro dei lavoratori del Cotir, del Crab e del Crivea. Il nuovo amministratore del Crua qualche giorno prima ha iniziato la procedura di mobilità di 9 dipendenti su 18, quindi significa prendere in giro i lavoratori del Cotir perché non ci sarà nessuna assunzione in quanto si iniziano queste procedure non ci possono essere altre assunzioni. Significa portare a morire anche il Crab perché licenziare i nuovi dipendenti su 18 significa portarlo alla istinzione. È una gravità assoluta perché oggi l'agricoltura non va più vista come elemento a sé stante ma va vista all'interno del contesto del turismo, dell'enogastronomia. L'obiettivo secondo i consiglieri azzurri, al di là delle promesse, è salvare solo pochi ricercatori del Cotir di Vasto da far confluire all'interno della struttura del Crua di Avezzano, cioè a circa 200 chilometri di distanza. La regione, dice Mauro Febbo, non è nella condizione di assumere altro personale negli enti, come ampiamente illustrato dalle recenti sentenze della Corte dei Conti e i fondi reperiti nell'ultimo consiglio regionale prima delle ferrie estive non saranno sufficienti. Ero riuscito a trovare queste risorse, ho presentato un emendamento che poi è stato votato all'unanimità dal Consiglio, 450 mila euro che invece stranamente non vengono più dirottati interamente ai tre centri di ricerca, ma solo all'ex club, cioè al Crua, ma insomma mi sembra che con l'assunzione del nuovo amministratore unico che è stato fatto, alla fine serviva solo per pagare il nuovo amministratore, perché insomma un compenso di oltre 40 mila euro che arriva a 60 con il nuovo riflesso significa pagare solo il nuovo amministratore per portare a chiusura i centri di ricerca.